Noi abbiamo dato dei segnali di voler far crescere il mercato, il settore dell'endertime, ad esempio il regolamento che abbiamo fatto nell'estate sul muro, quello che consentiva i locali che eravamo stati nelle due d'altra città, però lì comunque c'erano segnali di voler far valutare. Mi pare che comunque in quest'estate una differenza rispetto al passato, quindi mi pare che ci sia stata una differenza rispetto agli anni passati, però chiaramente le cose non è più una po' di dire. No, dico che lei deve cambiare l'altro contatto. A seguire chi opera nel mondo del lavoro, il venditore, però se non ci sono ricondizioni, se noi noi siamo naturalmente del rumore, magari un po' che va, un po' che va, un po' che va, magari un po' che va di chiudere e decide di andare a guardare la marina, per questo tema, forse non ci mangiare se lo ribassi, quindi quella lì è un po' di merito. Grazie. Grazie. Grazie.